il cavolo che vi faccio entrare è già stata dura col settore ci serve aiuto andate via ho colpito non puoi farcela prendetelo meglio apri la portiera e ti lasceremo andare ehi! c'è un raduno o cosa? stannazione siamo qui per il bottino ignorate Spiderman consegnaci la merce e ti lasceremo